Buongiorno, mi sono appena svegliata. Si vede dalla mia faccia? Ciao, ciao a tutti. Ragazzi, mi sono appena svegliata. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Sarebbe bello che qualcuno, in questo momento sarebbe bello avere un maggiordomo che mi porta un caffè, devo dirvi la verità, con la campanella. Allora, ragazzi, ci sarà un piccolo cambiamento nella mia vita, ci sarà un cambiamento importante, un cambiamento dei modi di fare. Perché purtroppo ieri sera mi sono sentita male, sono ancora un po' traumatizzata. Mi sono sentita talmente tanto male che ho deciso di fare questo cambiamento. Non so se succede anche a voi, ma per me i cambiamenti più importanti arrivano quando tocco il fondo, quando mi rendo conto che ho sbagliato a fare qualcosa. Fin quando rimango distaccata dalle cose e faccio tutto un po', sapete, penso che lo fate anche voi, si tende a fare tutto un po' in modo distaccato, un po' in modo passivo forse. In modo passivo, parlo di tutte quelle azioni, non parlo degli hyperfocus, parlo di tutte quelle azioni. Gli hyperfocus di solito sono ben studiati, messi all'angolo e le azioni sono proprio precise. Però per tutto il resto, solitamente mi sono accorta che tendo a fare le cose in modo passivo, farmi travolgere da quello che succede. E lo faccio da sempre. Questo però mi sono accorta varie volte nella vita. Ieri sera è stata la conferma finale, però mi sono proprio sentita male, quindi è arrivato il momento di cambiare. Perché non sono più una bambina e devo essere consapevole delle cose che faccio. E cosa succede? Che vivendo tutte le altre cose in modo passivo, un po' così come viene, è un po' un problema. A causa di questa stimolazione, magari anche che arriva da cose negative, il problema è che stiamo male. Se sbagliamo a fare l'azione, stiamo male, perché subiamo in modo passivo delle cose che ci fanno male. Adesso vi racconto la mia esperienza di ieri sera e vi dirò cosa decido di fare, perché qua è giusto cambiare le carte in tavola, perché comunque così non va bene. Allora ragazzi, stavo dicendo, qua ci sarà una modifica, ci sarà una modifica. Perché ieri sera è venuta alla luce un comportamento molto grave che so di attuare da tutta una vita. Praticamente per le cose che, tra l'altro, fatemi sapere molto sinceramente, se preferite che vi parlo più piano. Perché, a riguardare i miei video, mi rendo conto che a volte faccio fatica io stessa. Cioè, io capisco, però mi rendo conto che forse certi contenuti fate fatica a capirli, perché vado molto veloce nelle spiegazioni. Non vi assicuro niente, perché sapete che io vivo molto di impulso, però fatemi sapere se preferite una conversazione un pochino più lenta. Però vi assicuro, non vi assicuro niente, perché sapete come sono fatta. Ma comunque fatemelo sapere, sono curiosa. Allora, ieri sera è successa una cosa molto grave. Una cosa che ho sempre fatto, un comportamento che ho sempre messo in atto, fin da quando sono piccola. Come al solito, io vi parlo della mia esperienza personale, perché sapete che su tante cose siamo simili, ma non siamo uguali. Quindi, magari su dei comportamenti che fate anche voi, magari no. Quindi io non posso sapere la vostra situazione. Vi racconto la mia vita in questo canale, ovviamente. E la situazione è questa, ed è molto grave. Infatti mi vedete molto seria, perché è molto grave questa cosa. E mi sono accorta che non è colpa di nessuno, è colpa mia. È colpa mia che non rispetto la mia sensibilità. Non la rispetto, ragazzi. In queste situazioni non la rispetto. E infatti sono stata male. Sono andata a dormire con gli occhi spalancati. Per due ore sono rimasta nel letto a guardare un punto con gli occhi spalancati. Era come se avessi assunto delle droghe pesantissime. Ho pianto e sono rimasta traumatizzata, completamente paralizzata. Poi, grazie a Dio, mi sono rilassata. Non è la prima volta che mi succede. La problematica è sempre questo comportamento. E quindi è arrivato il momento di fare una modifica. Perché ho capito che non va bene. Perché, insomma, comunque non sono più una ragazzina. E bisogna essere consapevoli delle cose che facciamo, dei nostri comportamenti. Allora, è come al solito un discorso un po' complicato. Allora, se si tratta di iperfocus, di solito, di solito gli iperfocus sono molto consapevoli. So esattamente quello che sto facendo, cosa sto guardando, so esattamente che tipi di ragionamenti sto facendo. Per tutto il resto, praticamente, c'è una problematica. E comunque vi dirò anche come farò per risolvere questa situazione. Perché sapete che io metto l'allarmismo, però poi dico anche come mi voglio comportare per risolvere la situazione. Perché altrimenti sarebbe un canale da panico questo. Cioè, se vi dovesse dire soltanto tutte le cose terribili che succedono, diventerebbe un canale horror. E niente ragazzi, praticamente, succede questo meccanismo. Perché solo a pensarci sto male, devo cambiare posizione. Allora, per tutti gli iperfocus io sono molto consapevole di quello che faccio. Per tutto il resto, succede un meccanismo un po' inquietante. Per tutto il resto non mi interessa niente. È come se la mia mente si distacca, entro in una sorta di derealizzazione, che mi porta ad essere sempre più annoiata e distaccata, a tendere al ragionamento allora faccio quello che capita, quello che la vita mi offre la faccio. Però così, in modo passivo. Perché appunto è come se oltre alle cose che mi interessano, non riesco a trovare interesse nelle cose che la vita mi propone. Cioè, io nelle cose comuni, ci pensavo anche ieri quando tornavo da lavoro, io nelle cose comuni della vita odierna, della vita quotidiana. È assurdo, ragazzi. Ma a me non mi interessa niente. Cioè, delle cose là fuori, se io metto fuori il piede di casa in questo esatto momento, io non trovo stimoli per me. Mi sento male. Mi assale una noia. Cioè, vedete, c'è anche un discorso, purtroppo è un discorso molto più ampio e molto più complicato da affrontare. È un discorso che sto proprio male. Se io dovessi cercare, in modo obbligato, di uscire di casa e trovare ora qualcosa di interessante da fare, ragazzi, mi sento male. Mi iniziano a venire gli attacchi di panico, mi iniziano a venire l'ansia, perché io non trovo niente che mi piace là fuori. Non sono attratta da niente. Non sono attratta da niente. Ed è anche per questo che nei prossimi anni cambierò. Farò un trasloco molto importante tra un bel po' di anni, perché adesso non me lo posso permettere, e andrò in un posto che mi può stimolare un po' di più. Mi avvicinerò alla natura e agli animali e cercherò una soluzione a questa situazione. Consigliano anche gli esperti per le neurodiversità e in generale per tutte le varie psicosi, anche serie, trasformare l'ambiente in cui si vive e le persone con cui si ha a che fare dal mattino alla sera aiuta la psicosi o la neurodivergenza o comunque, come dicevo prima, anche psicosi molto pesanti come la schizofrenia, quindi stiamo parlando di discorsi molto impattanti, aiuta queste forme a un po' a riassorbirsi. Bisogna comunque fare, nei casi grave, bisogna comunque fare una terapia, ci mancherebbe, però agire anche sull'ambiente e sulle persone con cui comunichiamo, eccetera, aiuta il 60% a stare meglio, il 60%, quindi ragazzi, l'ambiente è fondamentale, è fondamentale, e infatti io fin da quando sono piccola, questa è la prova, nel momento in cui esco di casa inizio a stare male, mi inizio a sentire a disagio, inizio a sentire che non faccio parte di questo mondo, mi sento a disagio, è come se quel territorio non lo voglio calpestare, non è una cosa che mi interessa, e vorrei stare da altre parti. La cosa interessante è che se io penso ad un posto in cui potrei veramente stare bene e me lo immagino, questo posto esiste, quindi questo è molto interessante, non c'è una chiusura completa alla vita, c'è un posto nel mondo che io lo so che mi piacerebbe stare lì, quindi sarei anche più stimolata ad uscire di casa, a scoprire, a sentire gli odori, a guardare le cose intorno a me. esiste questo posto ragazzi, per me esiste, e cercherò di raggiungerlo. Adesso adesso andiamo andiamo al video, al video, al succo del video, è per questo che mi vedete sempre in casa, perché è l'unico, è la mia grotta ragazzi, io vivo qua. e stavo dicendo, oltre alle cose, oltre alle cose, diciamo, di iperfocus, in cui sono molto connessa, per tutte le altre cose, come dicevo prima, purtroppo avviene una cosa molto, molto di disagio, succede che vivo tutto in modo passivo, con quella noia addosso, che mi fa vivere tutto così come viene, tutto quello che la vita mi propone, per me è uguale, non mi interessa, vivo con questa sorta di depressione, come si può dire, una sorta di depressione velata, per tutto, non mi interessa, è uguale, posso anche stare sdraiata tutto il giorno, non mi interessa, vedete, sono dei ragionamenti, che in realtà, sembrano un po' di una persona che è depressa, perché è la verità ragazzi, non mi interessa niente di quello che mi offre la vita, devo dirvi la verità, mi interessa solo di quello che riesco a costruirmi da sola, perché è l'unica cosa interessante che vedo, che fin da quando sono piccola, riesco a vedere, solo le cose che creo io per me sono interessanti, tutto il resto non mi appaga, mi dà fastidio, mi fa sentire a disagio, anche perché consideriamo che quello che riusciamo un po' a controllare, tra virgolette, sempre tra virgolette, riusciamo un po' a gestire anche le sensazioni e le emozioni, tutto il resto dobbiamo subire anche gli stimoli e questo spesso per noi è un problema, quindi poi ragazzi, è tutto collegato, se questi stimoli diventano troppi e diventano ingestibili, a un certo punto succede che ci vogliamo isolare, perché questi stimoli poi ci fanno paura, perché non riusciamo più a starli dietro, e quindi è un po' un casino ragazzi, è un po' visto che le persone spesso come noi tendono ad isolarsi, però appunto come dicevo prima c'è una speranza, in realtà esiste un posto in cui noi potremmo essere veramente felici, io consiglio a voi tutti di fermarvi e pensare a questo posto, sono sicura che questo posto c'è anche per voi, quindi praticamente con questo fatto che si vive in modo passivo con questa noia in corpo che chi se ne frega non mi interessa più niente, va bene così, praticamente succede che io vivo quello che la vita mi propone, purtroppo cosa succede? Che la vita non propone cose, non so se ci avete fatto caso, io purtroppo ci ho fatto caso spesso, la vita purtroppo se voi vi mettete tranquilli così in modo passivo con con tranquillità no? vi mettete nel letto così con modo passivo in modo ingenuo la vita non propone, non so se ve ne siete accorti ma la vita non propone cose innanzitutto interessanti, davvero interessanti che piacciono a voi e vabbè questo è normale perché se non le andiamo a ricercare la vita non te le dà quelle cose lì in poche parole bisogna un po' sbattersi per le cose belle le cose interessanti però c'è un altro problema che la maggior parte delle cose che ti propone la vita ragazzi è brutto da dire lo sapete che io adoro la vita io amo la vita e sono qua solo perché amo la vita altrimenti probabilmente ne sarei già andata succede questo che la vita non ti propone cose belle cioè è bruttissima da questa cosa ma se voi ma fateci caso ragazzi se voi vi mettete sdraiati nel letto vi prendete il telefono e iniziate a guardare il monitor del telefono così come viene cosa vedete vedete incidenti persone che parlano di omicidi ragazzi sinceramente ve ne siete accorti le cose belle le dovete andare a ricercare voi ci avete fatto caso a questo meccanismo interessante se invece non le andate a ricercare le cose belle le cose curiose le cose che vi interessano se voi prendete il telefono provate provate io vi sfido a provare cosa vedete state 20 minuti col telefono in mano senza andare a cercare cose che vi interessano allora in 20 minuti voi vedrete omicidi persone che insultano scoop di presidenti che hanno violentato donne donne varie del mondo adesso c'è anche l'intelligenza artificiale quindi iniziamo a vedere anche facce che sembrano pure vere fatte di mostri in realtà costruiti dall'intelligenza artificiale quindi vediamo anche queste facce deformate facce di mostri che vi guardano tante cose poi vedete tante le so tutte perché praticamente le vedo tutti i giorni queste cose facce che ne so anche facce strane anche costruite con l'intelligenza artificiale dei mostri scoop di ogni natura che a noi non ce ne fotte assolutamente un cazzo però dobbiamo guardare questi scoop anche anche di tipo sessuale molte cose che hanno a che fare col sesso che comunque ragazzi sarà anche una bella pratica il sesso però insomma proposta così in modo così aggressivo vi dico la verità a me fa anche schifo a un certo punto cioè se ci fosse stato interesse ad avere un'attività sessuale io guardo due o tre filmati o due o tre due o tre cose che ti propongono questi media così in modo veloce vi dico la verità quasi quasi mi fa schifo cioè te lo propongono pure male in modo aggressivo non so come mai cioè vi giuro io non so come mai siamo arrivati a questi livelli cioè non si riesce a guardare un attimo una qualsiasi tipo di informazione una qualsiasi tipo di immagine senza che questa non so se ve ne siete accorti ragazzi è un problema cioè è un problema per tutti ed è un problema soprattutto per le persone come noi che probabilmente ce ne accorgiamo più degli altri perché siamo più sensibili infatti vedete come che me ne sono accorta di queste cose no cioè qualsiasi cosa che voi vedete sul computer senza che andate a selezionare appositamente le cose che vi interessano sono delle cose aggressive aggressive facce di ogni tipo che vi propongono articoli e cose in vendita di ogni tipo con questa falsità in corpo sapete la insomma i venditori così si devono comportare sempre sorridenti che sembra che vi stanno risolvendo tutti i dolori della vita entrate in un meccanismo irreale irreale aggressivo che fa anche paura perché spesso sono cose proprio brutte cioè sono proprio cose brutte cioè se voi vivete in passivo la vita vi dà un calcio in culo cioè non so se ve ne siete accorti vi dà un calcio in culo cioè vi dice ok vuoi vivere in modo passivo perché a te non ti interessa di me è come se la vita si offende ok se voi vi mettete nel letto e iniziate a vivere in modo passivo e dire ma a me che cazzo me ne frega faccio quello che capito faccio quello che capita ragazzi se fate così vabbè al di là del fatto di quando uno sta male ci mancherebbe se uno sta male ci mancherebbe deve stargli tranquillo e curarsi però se voi ragionate così non so se ve ne siete accorti la vita vi dà un calcio in culo è come se si offende dice ah sì a te non ti interessa di me non ti interessa della mia bellezza non hai capito la mia bellezza allora andrete a facciare pagare ti do le cose peggiori proprio ti do filmati più brutti ti faccio usare dai mercanti del web per comprare la qualunque e toglierti anche l'ultimo centesimo per comprare un materasso in gomma piuma che non ti interessava ma neanche morto però ti faccio tirare scemo da questi mercanti allo sbaraglio e soprattutto e vuoi star fermo senza guardare filmati allora ti faccio andare in paranoia visto che non reagisci decido io come farti reagire due o tre belli attacchi di panico un po' d'ansia qua pensiamo anche al passato sì sono state cose belle però no soffermiamoci sulle cose brutte tutto succede che poi vediamo delle immagini come è successo ieri sera tornando serie infatti vedete che sono diventata subito seria perché mi sono presa male in realtà filmati che ci traumatizzano ieri sera ragazzi adesso faccio il secondo video perché veramente sta diventando molto pesante questo video faccio la seconda parte grazie a tutti